l'immigrazione regolare. I prezzi del gas previsti in forte discesa raffredderanno anche l'inflazione, attesa in calo al 7%. Laura Groff. Giovedì sapremo quale sarà il prezzo che Arera, l'autority per l'energia, fisserà per il gas utilizzato questo mese. Si dovrebbe andare verso una riduzione. Del 33%, secondo nomisma Energia, intorno al 40% è la previsione del ministro Giorgetti. In ogni caso una boccata ad ossigeno per famiglie e imprese, possibile grazie al calo delle quotazioni. Dopo i picchi oltre i 300 euro per megawattora dell'estate scorsa, a fine ottobre il costo del gas era 145 euro, una discesa proseguita anche in novembre, complice l'autonomite. Poi di nuovo un rialzo, 150 euro a inizio dicembre e ancora un deciso calo consolidatosi quest'anno fino all'ultima quotazione, 54 euro per megawattora. La media mensile è crollata da 117 a 74 euro in due mesi con due conseguenze positive. La prima, un risparmio sulle bollette che in un anno potrebbe essere, stima nomisma Energia, di 712 euro a famiglia. La seconda, ancora più importante, è che questa diminuzione inciderà su tutti i prezzi, con un'inflazione annua media che, calcola un'impresa, potrebbe scendere al 7%.